buongiorno eccoci ragazzi a fare una seppietta col pomodoro cipolle aglio peperoncino e via vediamo le cipolle prepariamo l'olio qui a Londra domenica iniziata con un po di nebbia però non c'è freddo si sta bene facciamo riscaldare l'olio qui carriamo le nostre cipolle ce le ha fatte scaglie sottili cosa ho fatto ho pulito le seppie le ho stemperate nel freezer per almeno 24 ore se non di più poi le ho ripulite pian piano senza mettere sotto l'acqua sotto l'interiore tutto quanto e le ho tagliate insomma non le ho ancora tagliate in realtà per mantenere il nero di seppie quando le ho comprate le ho passate sotto l'acqua velocemente facciamo colare le cipolle prepariamo un po d'aglio peperoncino abbondante io ci metto un bel ciuffo di basilico 2-3 spicchi di aglio aglio ecco cominciamo a far rosolare pian piano prezziamo il basilico si può mettere dopo il canale non fa niente facciamo il caffè e ci facciamo possiamo fare due spaghettini ragazzi facciamo pian piano adesso ecco qua allora facciamo rosolare bene le cipolle mi raccomando aggiungiamo un po' di vino bianco un pochino aglio eccoci qua facciamo delle seppie al pomodoro con peperoncino e magari ci facciamo uno spaghetto dopo semplice e semplice niente di difficile ho preso delle seppie ieri al mercato del pesce mercato all'ingrosso io vado qui a Londra si chiama Billingsgate molto bello è nel pesce fresco quindi l'ho messo in freezer subito piuttosto nella lavattina l'ho messo in freezer adesso li ho ripulito le anteriore per recuperare un po' di nero vabbè ce li ho qui attenzione qua facciamo un caffè ecco qua facciamo colorare le cipolle prepariamo i pelati i pomodori pelati ecco qui ho una scatola da 400 grammi o due seppie più o meno fa un 800 grammi di roba quindi 400 grammi di pomodori pelati basta no? e facciamo un suggetto quindi vediamo come va a finire è tutta una prova continua alla mia cucina come sta Robert? ti ricordi le partite a calcio da ragazzini agli Olivetti? eh? quanti anni sono passati? ci siamo persi di vista io abito a Londra dal 1987 Robert eh parecchio mi hanno portato qui per vedere il posto nell'86 sono ritornato a 1987 tornato a Cagliari ho lasciato lavoro ho lasciato tutto e sono venuto qui per sempre scelta un po' tragica però l'ho fatto ormai allora le cipolle stanno rosolando aggiungo un pochettino di sale marino una bella spruzzata ecco qua con le mie cipolle un bel po' di pepe nero ecco qua con le mie cipolle un bel po' di pepe nero ecco qua senza esagerare un po' di pepe nero un po' di pepe nero e facciamo evaporare ok? dovremo tagliare le nostre seppie a pezzi piccolini cerchiamo di con le forbici di ridurre le nostre seppie sono troppo grandi ma che cazzo ecco non è un bel po' di pepe nero parliamo a pezzi piccolini se ci riusciamo posso andare la mia moglie mi chiede perché non era la sepia, non dite niente voi. E' l'inca. Octopus, squids, cattle fish, all'inca. E' preservato, perché ci diano un buon gusto ai pezzi, ai pezzi. Certo? Sto tagliando proprio alla buona, ragazzi. Siamo un po' assonnati, eh? Perché logicamente abbiamo passato il weekend per fare bandoria. Quindi siamo ancora lì che recuperiamo qualche energia. Allora, faccio evaporare bene il vino, ragazzi. Molta calma. Poi devono recuperare questa salsina, questo nero di sepia. Sarà uno spettacolo. L'ho provata anche avanti ieri. Però senza mettere il pomodoro. Ed era buono. Adesso la voglio un po', voglio cambiare. Vediamo il pomodoro. Guys, cattle fish. with pink. Tomato sauce. Chilis, onions, garlic. Rallori sauce. For our spaghetti. Coffee's ready. So I'm letting go two onions, bay leaves, chilis. Plenty chilis. Garlic. Half glass of white wine. Let it run a little bit in the pot. Plenty olive oil, obviously. And we cook our cattle fish, with some tomato sauce. Some tomato. You can do it. farm carne as a little bit. eccoci qua. Tagliare bene la nostra seppia, ma è di un profumo unico ragazzi. veramente bello ecco quale faccio a pezzettoni non devo stare lì a farli troppo piccoli ecco fatto il più c'è tanto nello di sé che uno spettacolo laviamoci le mani di nuovo un secondo vi faccio vedere buongiorno guido vediamo avviciniamo la camera adesso così vedete un po da vicino c'è la signora che passa dobbiamo fare ragazzi dovete avere pazienza che qui ecco qua c'era la spina ecco qui le seppie non so cosa devi stare a vedere va bene adesso qui la mia cipolla è quasi evaporata non so come farvelo vedere aggiungiamo il pomodoro ne facciamo andare un pochino e pian piano aggiungiamo le seppie ok torniamo qui ecco qua dovete avere pazienza domenica non siamo in gran forma dovete avere pazienza va bene allora facciamo andare il sughetto adesso pian piano travasiamo metto dell'acqua a bollire e pian piano travasiamo le nostre seppie semplice è semplice non stiamo lì a ecco qua facciamo cucinare il sughetto per 15 minuti non di più se hanno bisogno di quei 20 minuti 25 per cucinare però dipende un po se fate a fuoco o lento no giusto poi ci facciamo degli spaghetti che sono la fine del mondo quindi un attimino ragazzi faccio rispondare la padella siccome faccio rispondare la padella senza fiazza spettare la padella Grazie a tutti. Ecco qua il sugo inizia a sobollire. Adesso pian piano spostiamo le nostre seppiette. Spettacolari ragazzi. Emergiamo. Ecco qua. Prenderanno il gusto del peperoncino, delle cipolle e viceversa. L'aglio. Ho lasciato un pezzo grande ma non fa niente. Lo possiamo tagliare anche dopo. Ragazzi c'è il profumo del mare qui in casa. Spettacolo unico. Ecco qua. Veramente bello. Pian piano senza fretta. Ci passiamo un'oretta davanti ai fornelli tra un tale giornale e l'altro. Ecco qua. Adesso mescoliamo pian piano. Che spettacolo ragazzi. Ecco qua. Adesso gli ho messo su un po' di acqua a bollire come dicevo. Ecco qua. Recupero la salsina. Ecco qua. Faccio così. Buona volta. Questi pezzettini. Possiamo anche togliere. Qua. Aspetta faccio questo giochino qui. C'è qualche scoria. C'è del peperoncino. E buttiamo la salsina dentro. Accomperiamo tutto ragazzi. Tutto, tutto, tutto. Un altro po'. E via di nuovo. Ok. Spettacolo. Ok. Appendato. ายimente. Arror. Passo. In mani e di pescocino. Da. Qui c'è. Quace. Quace. Puglietta. Appendato. 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 ecco qui allora abbiamo la fiamma alta un paio di minuti e poi abbassiamo questa è una signora ricetta ragazzi secondo me a volte spagna anch'io facciamo bollire pian piano mi raccomando pian piano so bollire so bollire che può pensare su una salsina per i bimbi cosa li possiamo fare allora ragazzi nei bambini piacciono i funghetti quindi facciamo una salsina per la pasta asciuta e dei funghetti prendiamo del setano dei funghetti ecco qua ecco qua la padella c'è spostiamo le nostre seppiette qui e coppiamo un'altra pentola facciamo riscaldare bene allora iniziamo con la cipollina cipollina abbiamo pulita un po' d'olio d'oliva ecco qua io ci metto dei gambe di sedano i funghetti che vado a lavare sotto acqua corrente dobbiamo pulire le nostre carotte ecco qua 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 I funghetti. Via. Possiamo tagliare la cipolla adesso ragazzi. Nel frattempo le nostre stecchie si iniziano a colorare e stanno bollendo poco molto lento. Ecco qua, facciamo rosolare le sui polle. E poi iniziamo a tagliare i cendetti. Fuoco alto. La fiamma alta. I funghetti non devono sobollire o devono cuocere velocemente così non perdono l'acqua. E gli facciamo il fusilio. E' la fiamma. Spera. 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 questo è un pezzo di maschini, un carli pasta for them, è un po' di schizzi, ma sono difficili per fare pezzi, e per questo la città è di colpo. Poi su te la scuola con la cili e la tomate sauce, White wine, onions, garlic, pepper, everything. There guys, very high flame for your mushroom, so they don't release the water, yeah? My feet are cooking nicely, dirty with it, but I kept the ink, so you have to do some magic to clean them without clean water. Okay, there we go. A pinch of salt. Very little, yeah? A pinch of salt. There we go. Now I'm going to put my carrot's big chunks. So the kids, they can remove it. It's a challenge with my kids, yeah? Never know what they like. So make sure you don't burn anything here. Very high flame, yeah? Let the water evaporate now. There we go. Then we add a bit of white wine. It's a 10, right? Everything you can be ok. Ok Ok rigiriamo le nostre le nostre stettiette un po po così ci stiamo provando mettiamo l'acqua a bollire per la pasta dei bindi e continuiamo a rosolare i fringhetti mi raccomando anche si possa aggiungere anche le mie verdure e continuiamo a girare spruzzatine di vino bianco e via tutto lì adesso posso anche abbassare la fiamma e far fine di evaporare il vino niente di spezzato a 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 aggiungiamo il sale per la pasta adesso aggiungiamo un po' di sale per le nostre seppiette sono contenti con il sale? mettetene poco se possibile ecco qua, pian piano cucinano e lasceremo un po' di salsetta con cui condividere gli spaghetti vediamo un po' che dicono i bimbi buongiorno Giussi Giussi abbiamo qua delle seppiette che sto cucinata con una salsa di pomodoro, peperoncino, peppe, aglio e cipolle e vino bianco e nero di seppia ho ripulito le seppie dall'interiore senza l'acqua corrente e vediamo un po' che c'è fuori ci ho messo del basilico dopo aggiungiamo il prezzemolo adesso vado a preparare e lo tagliamo finemente avviamo il prezzemolo facciamo cuocere bene i funghetti il vino è quasi evaporato intanto diamo una girattina alle nostre seppie io aggiungerei un altro goccino di olio d'oliva grazie grazie oggi c'è il Cagliari ragazzi aspettiamo le due del pomeriggio come va a finire col crottone non lo so ma abbiamo bisogno bisogno di tre punti per tre punti maggiungere non lo so maggiungere non lo so maggiungere non lo so maggiungere il un po' di Allora, l'acqua sta insieme a bollire, lo vedo bene qua. Qua c'è un profumino, ragazzi, veramente è bello. Se io ci metto anche un pochino di astratto di pomodoro, ragazzi. E' un pochino di pomodoro, ragazzi. Ecco qua, vedendole, sono pronte. che decidiamo sanno assorbire strato di pomodoro ma che spettacolo facendo una bella falsetta densa densa la vita uno spaghetto unico di pasta elegante secondo me certo di essere attenti nella pulitura nella pulitura delle secche perché bisogna trovare della sabbia giusto essere attenti un po di pasta per i piedi senza esagerare continuiamo a rigirare la stessa effetta adesso poi le farò riposare prima di metterci giù spaghetti per questo pomeriggio la salsa riposa diventa uno spettacolo ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui le carotte sono cotte, inserano pure faccio a bacio la fiamma quasi al minimo vediamo un po' che dicono i bimbi ecco qui ecco qui ecco qui città bene la pasta la pasta Grazie a tutti. Eccoci qua ragazzi, guardate che bello, 25 minuti mi raccomando, un po' con lento, se la coprite è meglio, io adesso quando finisco di cucinare chiuderò la, metterò il coperchio e faccio riposare così si ammorbidiscono, va bene? Adesso la pasta sta mollendo, eccola lì, aggiungiamo un po' di acqua di cottura ai nostri funghetti, vediamo se brucia niente, giusto a poco a poco, amici miei, io sto facendo un po' di colazione con un piatto di fave. Siamo quasi, pian piano passa quasi cotta, sempre andate e date una giratina, assicuratevi che non si attacchi niente al fondo, mi raccomando, questo è uno spettacolo ragazzi, c'è tanto di quel sugo qui alla grande, il prezzavolo lo aggiungo quasi alla fine, va bene? qui la pasta non bolle, quindi devo spostare un po' le mie pentoline, va così, e vi doverlo qui. Poi ci spruzziamo del tamigiano e siamo a cavolare. Grazie. 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 fate con calma raga non vi deve inseguire nessuno allora adesso possiamo trasportare la pasta con i funghi e definiamo la cottura lì ancora dobbiamo fare cuocendo scelchiamo una chimica grazie grazie ecco qua piaviva ragazzi il passaggio sta volendo veramente sta cucinando veramente adesso tra mattinino lo spostiamo vediamo un minuto e due vedete la salsina come va con eleganza io direi assaggiamo la salsina perché ragazzi non controllare il sale buonissimo non ho parola ok adesso cosa faccio io recupero un pochino di acqua di cottura ecco qua spostiamo la pentola e finiamo la cottura così vediamo un pochino se va bene a prezzo Grazie a tutti. Ecco qui, ecco qui. Grazie, spettacolo. Adesso aggiungo un pochino di acqua di cottura, poco a poco. Molto caldo e mescoliamo. Adesso aggiungo un po' di parmigiano adesso. E posso già spegnere la fiamma. Ecco qui, un po' di grana. La fiamma è spenta, ok? Adesso aggiungo un pochino di acqua di cottura e lasciamo riposare. E lasciamo i bimbi a giudizio dei bimbi. Bene, adesso da questa parte abbiamo praticamente quasi concluso la cottura delle seppie. Aggiungiamo il prezzemolo. Ecco qui. È un po' difficile raccoglierlo tutto. Mescoliamo in un minutino o due e poi copriamo la pentola, ragazzi. E spegniamo il fuoco. Bene. Questo è uno spettacolo unico, ragazzi. Ecco qua. Bene. Vediamo come va. Bene. 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 Ecco qui, ragazzi. Abbiamo finito. Bene. Spendiamo il fuoco. Allora, copriamo proprio la pentola così e lasciamo riposare. Ok? Lasciamo proprio riposare per due orette. la sepia si ramollisce diventa tenera e poi ci sono dei spaghetti abbiamo fatto i fusili per i vendi e due sepiette ciao ragazzi e buona domenica forza cagliari sempre